Allora, ho portato Tato in questo posto dove Carrie e Big hanno fatto la cena prima del loro matrimonio, è bellissimo, molto l'atmo, con un gusto che è di sottofondo, carina, e guardate il tavolo dove hanno girato la scena pre-matrimonio. Comunque, quel tavolo è un tavolo comune, giusto, condiviso, noi siamo davanti, ci sono due o tre compleanni, è carinassissimo, e vabbè ho portato Tato qui per fare una sorpresa proprio perché Carrie e Big fesero la cena pre-matrimonio, quindi... Vedi? Vedi? Vedi, quella che faremo è te, io... Vedi? 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 Grazie a tutti